Sala 4. Gabbiano reale. Il gabbiano reale è la più grande e comune specie di gabbiano del nostro paese. La sua lunghezza può superare i 60 centimetri e l'apertura alare addirittura ai 140 centimetri. Negli adulti il corpo è di colore bianco, mentre il dorso e le ali sono grigio-azzurrognoli. Tra maschio e femmina non vi sono grosse differenze, mentre i giovani hanno un colorito bruno con striature e macchie pallide ed impiegano circa 4 anni a schiarirsi. Tutti hanno un becco forte e robusto, né rastro nei giovani e poi giallo con un'evidente macchia rossa negli adulti. Il gabbiano reale può raggiungere anche 15 anni di età. Il gabbiano reale è presente con popolazioni migratrici, sedentarie e dispersive, cioè che si spostano senza compiere regolari migrazioni, il tutto nelle nostre regioni. Nidifica direttamente sulle rocce, oppure su isolette erbose e cespugliose, sia in laguna, sia in zone saline, ma anche in zone coltivate e centri urbani. Il gabbiano è un onnivoro divenuto di recente un grande opportunista, capace di sfruttare ogni genere di attività dell'uomo.